AMAG ADBLUE Il liquido d'esercizio ADBLUE trova impiego nel post-trattamento dei gas di scarico come additivo per carburante di veicoli diesel con catalizzatore SCR. Gli ossidi di azoto nocivi per l'ambiente, meglio noti come gas serra, vengono trasformati quasi completamente in vapore acqueo e azoto atmosferico. Le emissioni di pulviscolo diminuiscono sensibilmente e il consumo di carburante si riduce addirittura del 5%. È dunque possibile rispettare anche i rigidi valori limite delle emissioni fissati dalla UE. Eppure, in caso di utilizzo di ADBLUE, occorre tenere presenti alcuni punti importanti. L'ADBLUE va rabboccato regolarmente perché il serbatoio ADBLUE non deve mai essere vuoto. Quando il serbatoio ADBLUE è vuoto, non è più possibile avviare il motore. A seconda del modello di veicolo, il bocchettone di riempimento può trovarsi sotto lo sportello di rifornimento del carburante, nel vano bagagli o nel vano motore. Il veicolo riconosce il livello di riempimento del serbatoio ADBLUE e informa tempestivamente e ripetutamente il conducente tramite il display nella strumentazione. Si deve inoltre impiegare assolutamente ADBLUE originale. L'uso di ADBLUE o altri fluidi contenenti tracce di sporco può comportare una perdita progressiva di potenza. E infine, l'ostruzione del catalizzatore. Ne risultano riparazioni costose, efficienza ridotta e perdita di tempo. I prodotti ADBLUE offerti da AMAG sono prodotti di qualità garantita che concorrono alla protezione dei componenti, all'ottimizzazione del consumo di carburante e alla riduzione delle emissioni di gas di scarico. La sua concessionaria del marchio provvede a un rabbocco senza intoppi e sicuro, pulito, rapido e privo di complicazioni. Venga a trovarci. Anche senza preavviso. Il nostro consiglio, prima di intraprendere viaggi lunghi, ad esempio per andare in ferie, faccia rabboccare l'ADBLUE in via preventiva. Ci adoperiamo per garantirle una mobilità impeccabile e le auguriamo buon viaggio. AMAG